Cari partecipanti, avete visto lo schema del ora e sapete su cosa guardare in caso di emergenza, osservare, riflettere, agire. Solo questa frequenza può funzionare in un caso reale, ma questo lo sapete già. Ora vi presento il primo lavoro, un lavoro di gruppo con un massimo di tre gruppi. Ricevete delle foto di tre casi di pericolo, quindi una foto per gruppo. Il vostro compito è analizzare la foto tenendo presente lo schema del semaforo. Analizzare vuol dire scrivere degli appunti sul flipchart. A cosa bisogna prestare attenzione? Quali pericoli riconoscete? A cosa dovete pensare per ridurre i pericoli? E alla fine come reagireste? Protezione personale, come assicurare il luogo e quale numero di emergenza attivare. Ora ricevete i fogli del flipchart e dei pennarelli. Il tempo previsto è di 30 minuti. Il capocorso vi dirà dove potete mettervi per svolgere il vostro compito. Buona fortuna!